Arrestati dai carabinieri un comisane e un vittoriese sono accusati di aver prodotto e venduto sostanza stupefacente nella fattispecie marijuana. L'operazione messa a segno nella giornata di ieri da parte dei carabinieri ha portato all'arresto di Piaggio Pellegrino di 45 anni comisane Giuseppe Reale di 32 anni vittoriese. Nel primo caso ad agire i militari della stazione di Comisi, quale a seguito della perquisizione domiciliare nell'abitazione di Pellegrino di Contrada Deserto, sono stati rinvenuti sulle terrazze nel cortile antistante l'abitazione a 19 piantine di cannabis indica in fase di crescita. Successivamente all'interno del terreno di sue pertinenza occultate tra la vegetazione, sono state rinvenute ulteriori 17 piante della medesima sostanza dell'altezza media di 1,80 m circa. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente. A vittoria invece i militari dell'Iquota Radiomobile della compagnia hanno arrestato Giuseppe Reale perché nel corso della perquisizione domiciliare è stata rinvenuta sul terrazzo un vaso in plastica contenente una pianta di cannabis indica dell'altezza di 80 cm. Nonché 3 grammi di marijuana già essiccata, una busta per alimenti intrisi di marijuana, posta all'interno del frigorifero, un bilancino di precisione e il tutto è stato posto sotto sequestro. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio. Sempre ieri a Comisi i militari delle locali stazioni hanno arrestato un tunisino per spaccio di eroina è la seconda volta in un mese che viene arrestato e si tratta di Asenet Lili. Tunisino di 28 anni senza fissa dimora, celibe, nulla facente e pregiudicato, è stato colto dai militari della stazione di Comiso nella fragranza di cedere una dose di sostanza stupefacente, nello specifico eroina pari a mezzo grammo ad un 37enne di Comiso.